Uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear me screaming? Di partite e piazzarci nella top 20 riceveremo ragazzi in regalo l'emoji del succo bananita Un'altra emoji tra l'altro animata che si va ad affiancare a quella che ci hanno dato nel pass battaglia di questa season Dove c'è in poche parole il pesce secco che ci fa l'occhiolino Consigli ragazzi non c'è molto da dire io vi consiglio non ci vuole molto entrare in una top 20 E non ci vuole neanche molto tempo vi buttate bello bello in fondo ragazzi Vi luttate tranquillamente piuttosto dedicate un po più di tempo per il farming è molto easy ragazzi Aspettate di essere nella top 20 per poi fare qualcosa che può essere o chiudere la partita Perché qualcuno mi sta già sparando no è possibile non cercate di non avere almeno la mia sfortuna ragazzi O altrimenti altro consiglio che posso darvi vi buttate nello spot di una palletta Prendete la palletta e aspettate molto tranquillamente di essere in top 20 Ragazzi niente di che per questa volta molto meglio premio assicurato Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al banale Noi ci vediamo alla prossima grigliata Ciao 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 Ciao